Forse non tutti sanno che tutti i giorni noi utilizziamo come la matematica e tutte le altre scienze e anche l'archivistica nel modo di essere, di esprimerci tutti i giorni e nel modo di fare dalla mattina quando ci alziamo fino alla sera utilizziamo comunque la memoria, comunque i documenti e comunque l'archivio. Infatti in questa iniziativa molto bella e diciamo che il caldo sole di settembre ci aiuta in questa giornata così splendente a parlare proprio di queste cose, degli archivi, dei documenti e di quello che noi poi lasciamo un domani come memoria del nostro passato anche verrà dopo di noi.